Oh finalmente è arrivata signorina, veloce veloce dobbiamo fare le riprese, si muova per favore No guardi non glielo lascio un autografo guardi, ho appena fatto un viaggio lungo, io sono qui per registrare un film, non mi deve importunare No no ma io sono il suo assistente, non le sto chiedendo un autografo Le ho già detto che non faccio foto, dov'è il mio manager? Perché non è ancora arrivato e mi ha lasciato qua Con una specie di pirata incompetente che non sa neanche quello che deve fare una grande star come me E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Teve che si chiama Gmod E siamo finalmente tornati con un nascondino su Gmod E questa volta siamo in un fantastico set cinematografico Perché vi potrà sembrare una classica spiaggia ma se guardate bene lì in fondo potete notare già tutti i cartoni, tutte le sagome di un classico set E anche le telecamere Fereniki, ci sono anche le telecamere attaccate qua là Infatti se guardate bene è un set cinematografico, è bello bello grande quindi è pieno di nascondigli possibili E ci divertiremo un sacco a nasconderci Allora Fereniki, ho soltanto un minuto e venti per nascondermi quindi facciamo che inizi a nasconderti va Ok, ci abbracciamo e facciamo questo round da capo Esattamente, mentre faccio il DJ qui Oh yeah, oh yeah Guarda che bella musica Fereniki Ballo! Ah no, pensavo di potermi abbassare e ballare ma non ha funzionato Ok, vado a nascondermi Va bene vai, 30 secondi Iniziamo a cercare Fereniki Allora, se dovessi nascondermi io, mi nasconderei qui dentro Guarda che bel posto Feren Panini, hamburger e il posto perfetto dove stare Allora, c'è da dire che mi sono un po' persa Quindi sinceramente, guarda, ti avrei anche dato un indizio ma non so neanche come sono arrivata in questa zona Furia di girare, girare, cercare di scoprire cosa ci fosse Quindi non lo so Sai come? Se avessi trattato meglio il tuo assistente in questo momento avresti una bella cartina del posto Invece l'hai trattato malissimo e adesso non sai neanche dove vai e dove stai Allora, io invece conosco benissimo questo posto Quindi trovare Fereniki non sarà per niente difficile Soprattutto nel mentre inizio già a scegliere i miei possibili nascondini per il mio round Perché lo sapete che la cosa più importante per me è fare il miglior nascondiglia della giornata Vediamo se si è messa dentro a casa, vediamo un pochettino Allora, è gigantesca anche questa casetta Però potrebbe essere qua Perché comunque i posti chiusi sono due E dovrebbero essere questa sorta di villetta E dopodiché l'albergo Quindi teoricamente Vabbè c'è anche il bar sotto Mi pare o sopra Non mi ricordo a che pieno rimanga Però c'è anche tutta la zona bar Anche quella comunque un posto chiuso Ma quanto è gigante Te l'ho detto Te l'ho detto, è davvero grande Ma quante stanze ci sono qua Sento puzza di Fere Sento puzza di Fere Secondo me sono abbastanza vicino Mamma mia, è troppo grande Non è possibile Feretina Sei al primo piano di un posto? O al piano terra? Ve lo chiedete Non sai neanche quello, Fere Ciao Ma dai, come hai fatto a trovarmi? Sentivo l'odore Fere Sapevo che ero vicino Iniziavo a sentire le tue vibrazioni E la tua paura di essere trovata Ah, meno male che l'ho presa Cugiardo Hai solo fortuna Altro che vibrazioni e vibrazioni Ma quando vai? Se sono una persona spacciatamente fortunata Allora se sono fortunato Allora mi dovrai trovare subito Non appena mi nascondo Ok? Ma hai detto che sei fortunato Quindi cioè sei fortuna Io non ti devo trovare No, perché la fortuna non è che è infinita La fortuna Assolutamente sì Dai muoviti, muoviti No, non mi piace, non mi piace Mi sono incastrato Dannazione Quando vuoi Fere? Quando vuoi? Sei stato veloce Quindi sei abbastanza sicuro di te stesso Veloce ma cattivo Proprio le mie parole preferite Utilizzate nella stessa frase Allora dai Lo dici tu Sono nascosto E teoricamente sono all'aria aperta Quindi non sono né nella villa Né nell'albergo Ok? Posso essere l'intorno Ma non sono dentro Questo è il mio indizio Dato che tu comunque Mi ne hai dato uno bello Adesso divertiti a cercarmi E ad impazzire Perché secondo me Non ce la farai Fere Te lo dico Due minuti sono passati E ti do un altro indizio Molto importante Sono in una zona molto marrone Ok? Ti viene in mente qualche posto molto marrone? Eh vabbè il posto Sto con tutte le strutture di legno Dietro il set Ok 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 Prova ad andare in quella zona E c'erlo già C'erlo già Sono appena arrivata infatti In quella zona E vediamo che stai qua Eh non lo so Fere Vediamo Vediamo un po' Io sono qua nascosto Che aspetto di essere trovato Però non arriva nessuno E mi sento un po' triste Solo Secondo me mi hai già visto No 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 Dalla mia visuale Purtroppo non riesco a vedere molto Devo essere sincero È infatti una voce un po' strana Quindi secondo me mi hai già visto Non so perché hai cambiato tono Vabbè Nel momento in cui sono arrivati in questa zona Quindi secondo me Consolini cosa sta succedendo È un po' strano Da quando ho iniziato ad utilizzare La faccia del troll in editing Per mettere le parti dove la prendo in giro E dove la trollo tantissimo Lei ha paura sempre di essere trollata Non è vero E quindi cerca di capire E che lo fai sempre Le minime sumature Perché sei un disgraziato È solo per quello Ora lo so Non ti trovo Io penso di aver guardato Tutta la zona esterna Sicuramente non lo so Ti stai arrendendo così? No non mi arrendo Cercatrici si arrendono così facilmente Fede Sono un'attrice Non una cercatrice Di Steph Scusami Che lavoro Stai recitando Che lavoro starete Il ruolo di una persona Che deve cercare Se devi fare Ma non esistono i film di nascondino Quindi non dire fesse Dovrebbero Secondo me I consolini andrebbero a vederselo al cinema Quindi dovrebbero esistere Comunque guarda Mi sa tanto che esco fuori No 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 Ti voglio provare Stai zitto Stai zitto Due minuti e trenta allora Ho ancora tempo Quindi ti devi solo stare zitto E farmi concentrare Solo due minuti Vediamo 50 secondi per te Ce la posso fare Ce la posso fare Sono fiduciosa Finché non scade il tempo Sono fiduciosa Qua siamo tutti fiduciosi insieme a te Però Stai per dare a Steph La vittoria più bella Quella dove non vieni trovato In 6-7 minuti E il che dimostra che il nascondiglio È super pro Sei in questa zona per forza Perché l'altra rimane più a partello Ma infatti L'ho visitata tutta Dove sei in mezzo a questi scatoloni Ti garantisco che sei vicina Cioè sei nel posto giusto Però ancora non sei riuscito a trovarmi E mancano soltanto 20 secondi Quando ne mancano 5 Io esco fuori Ok Quindi mancano 15 secondi Fere Forza Forza Non lo so Cioè non ti vedo Sono qui da due ore Sei qui dentro Dentro il furgone Vai dove c'erano gli scatoloni Ok Fere Da dove? Mi vedi? No Qui? Vieni 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 Qui Sì vabbè Allora praticamente da lì Non ti puoi vedere Né se giri da qua Perché da lì non si vede E non ci vai guardando velocemente Neanche da sopra Lo so Perché neanche da sopra No sei un disgraziato Sei un disgraziato Non si può giocare con te Me ne vado Ecco la sostanza signorina Finalmente può venire Venga dentro Venga dentro L'abbiamo arredata apposta per lei C'è tanto il rosa E ci siamo impegnati Non è vero io odio il rosa Com'è possibile mi scusi Odio il rosa E questa moquette fa schifo Ma sta scherzando Sembra il materiale di un peluche Io sono abituata A moquette molto più pregiate di questa Ma ma mi scusi Mi scusi E poi scusi Sì No 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 Sinchini un attimo Sinchini un attimo Sono io che comando qui Non lei che è un misero assistente Ok Allora secondo lei Io che mi devo fare il trucco da cinema Che impiega almeno tre ore Sì Cioè mi posso accontentare di sto specchio Con dei cuoricini No ma noi abbiamo una scrivania Fatta tutta apposta Dove verrà truccata da altre persone Addirittura E poi scusi Sì Sì Chi è questa Questo nome che c'è nella parete Questa Chloe Cioè state riciclando una stanza Che avete dato Prima a qualcun altro E ora la state riciclando Per me Che sono pure famosissima Ma mi scusi Dovevo buttare giù i muri E rifare tutto Sì Esatto Sì Dovevate darle fuoco E rimaffarlo da capo Mi sembra logico Allora Sia un po' ragionevole Io le vorrei chiedere Di toccare un attimino Alla moquette Perché secondo me Non l'ha toccata abbastanza bene È molto più bella Di quel che sembra Non credo No non è più Forse è lei che non è abituata E magari vive in mezzo Capito È rifiuti Quindi le sembra bella Questa moquette Il mio stipendio Se mi vuole alzare Lo stipendio Io non mi lamento Allora se si comporta così No Però se mi può procurare Una stanza migliore Forza signorina Dov'è finita Dai No non esco fuori Non mi faccia perdere tempo No 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 Deve andare Sono profondamente offesa Dalla stanza Che mi avete offerta Sì ma lei deve registrare Tra 15 minuti E non si è ancora truccata Non è vero Ma che non è vero Le faccio vedere La scaletta degli erari E poi sta dicendo Che ho bisogno Per forza del trucco Per andare in scena Scusi Mi sta offendendo Non sia mai Guarda Mi sta permettendo Di offendermi No non lo farei mai Mi vado bene anche così Anche appena sveglio Uguale Vado sempre bene Va bene va bene Non voglio mettere in discussione Che sa cosa Grazie Però per favore Mi dica adesso dov'è Perché No no Allora se mi trova Possiamo anche ragionare Sul fatto che io Posso andare in scena Quello sì Quello sì Però se mi trova Senza indizi Ok Difficilissimo Va bene Me ne farò una ragione Inizierò a cercarlo ovunque Secondo me È andata nella zona del bar Perché Stai dicendo che io vado sempre A bere al bar Sì decisamente Non è vero Non è vero Bisogna Comunque guardi che sono mimetizzata benissimo Non mi troverà mai Te lo dico già Addirittura Addirittura Probabilmente il miglior mimetizzamento Va bene Che si possa fare nel mondo Mi dovranno assumere per fare le parti mimetiche nei film Quindi ha trovato già un nuovo lavoro Sì Beh bello 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 E posso recitare al posto suo nei film No perché c'è bisogno di una parte di una ragazza Lei non è una ragazza Ha pure la barba Quindi non può essere neanche scambiato Però mi scusi Guardi Io ho un'abilità molto Molto figa Mi sta copiando Che mi permette Di essere molto simile a lei Non sarà mai come me No No Non sarà mai come me Peccato Peccato Perché secondo me Sono molto simile Sono una valigia Non sono io Vedi le altre sono valigie Quindi anche io sono qua Sono una valigia È proprio brava a mimetizzarsi Guarda Io quasi quasi vado a licenziarmi Perché non ne posso più di dover sopportare gente come lei tutti i giorni Magari mi danno un assistente un po' migliore No 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 Guarda faccio licenziare anche a lei Le lo giuro Forza forza Venga fuori dai Non mi faccia perdere tempo Mi tocchi Ok Adesso vado a recitare quel dannato film Così finalmente io me ne vado in pace a riposarmi Dove ti sarai cacciato? Ebo Ebo Vuoi un indizio? No dai è troppo presto Fammi cercare un po' dai Meglio 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 Allora Che skin utilizziamo? Una normale Non iniziare a mettere cose strane No no Mustaccio oggi non lo uso Sai perché? A Mustaccio non piacciono le telecamere Non gli piace essere diciamo lì al centro dell'attenzione È molto timido Mustaccio Infatti sì Si nasconde Buggandosi in ogni posto Perché è molto timido Sì Vero 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 Ok ok Però io mi sento in dovere di darle un indizio Lo sa Ok se vuole Secondo me lei non sa che esiste questo posto Quindi se non negli inizi non potrà mai capire Sono in un posto molto alto Cosa vuoi? È il soffitto? Soffitto? Cioè il soffitto della casa Puoi andare nel soffitto? Quello si chiama al massimo Il soffitto è un posto molto alto No ma il soffitto quando stai sotto È uguale È la stessa cosa È la stessa cosa Signorina Mi spiace Ma non è la stessa cosa Allora questo è il tetto Uno dei posti più alti della casa Ok infatti la vedo Dove mai potrà essere La vedo la vedo Adesso è sopra il vetro Esatto Perfetto Io sono più in alto Più in alto c'è quel posto là Quale? Quello del set Dietro il set Lì è altissimo Ah E sa come arrivarci? Certo ci sono le scale Davvero? Ci sono le scale Non è che ci vuole molto Dove sei? Stai ridendo? No 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 Stai tranquilla È molto lontano ancora Non è vero Chissà quando arriverà Dove ti sei cacciato? Ma sei rimata lì sopra? Sì e lo sai perché stai ridendo Infatti sei qua Ma dai Non ti ho neanche visto arrivare Stavo correndo questa scala Tutto il tempo E non ti ho visto neanche arrivare Ma sei passata da qui? Sì 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 Da qui Dannazione Ti stai confuso Perché eri freddi poi? Cioè Perché io mi dovevo nascondere È Friday E ho detto freddi Mi dovevo nascondere Dentro il bagno E faceva troppo ridere la sua faccia Però Hai rovinato tutto E sei arrivata troppo in fretta Bene che sei riuscito Sì riuscito Sciatrici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao